Edward Perryman Cole è morto in maggio. Era una domenica pomeriggio e nel cielo non c'era una nuvola. È difficile capire il valore della vita di una persona. C'è chi dice che viene misurato da quelli che gli sopravvivono. Qualcuno crede che si possa misurare nella fede. Qualcuno dice nell'amore. Altri dicono che la vita non ha proprio senso. Io? Io penso che uno misura se stesso in base alle persone che si sono misurate su di lui. Quello che posso dirvi è che in base a qualunque misura Edward Cole ha vissuto i suoi ultimi giorni sulla terra con più intensità di quanta la maggior parte della gente riesce a spremere da un'intera vita. Io so che quando è morto i suoi occhi erano chiusi. Il suo cuore era aperto.